Una tecnica innovativa per la sanità piemontese, come può inserirsi nel nostro sistema sanitario regionale? È una tecnica assolutamente innovativa di cui si parla e si sperimenta già da tempo. Diciamo che è un inizio questo per la nostra regione e soprattutto per la città della salute e della scienza di Torino, sia nella versione adulto, quindi diciamo a Molinette, sia nella versione pediatrica, Regina Margherita, diciamo che si è pronti a partire, appena viene in qualche modo sdoganata la questione a livello AIFA noi siamo, come si usa dire, sul pezzo e pronti a poter trattare questi casi che si stimano in regione Piemonte una quarantina a oggi come elegibili per gli adulti e circa 5-6 per l'area infantile.